Vietato fumare, Torino spegne le sigarette anche all'aperto. La regola vale pure per sigari, pipe, tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Accendino e pacchetto di bionde dovranno restare nella tasca dei fumatori ai tavolini dei De Ordei Bar, alle fermate degli autobus, nei parchi pubblici, durante le manifestazioni. La nuova normativa, sancita dal Consiglio Comunale della città della Mole, con una delibera approvata quasi all'unanimità che modifica il regolamento della Polizia Urbana, prevede che non si possa fumare a una distanza inferiore da 5 metri da un'altra persona, a meno che non ci sia un esplicito consenso da parte di chi sta intorno a chi sta per accendersi una sigaretta. Lo stesso Ministro della Salute, Orazio Schillace, aveva annunciato di voler definire un provvedimento analogo, ma per il momento la norma nazionale che vieta il fumo anche nei luoghi all'aperto ancora non c'è e singoli comuni procedono in autonomia. A Torino, dove la normativa entrerà in vigore tra due settimane, chi sgarrerà rischierà una multa da 100 euro. La città piemontese è solo l'ultima ad aver spento le sigarette all'esterno. A Napoli la regola esiste dal 2007 e sulla spiaggia di Bibione il tabacco è bandito dal 2019. A Milano la norma è stata introdotta nel 2021, non si può fumare se ci sono altre persone nell'arco di 10 metri. Resta il nodo sulla difficoltà a far rispettare la regola. A Milano controlli e sanzioni sono stati davvero pochi.